Allora un super di qua, si si è sicuro, è stata sicurissima questa E benvenuti in questo nuovo video, io sono Gazz04 Allora ragazzi in questo video recensiamo una mod, è una mod molto particolare Abbiamo uno slot, infacile, facciamo l'outbelleron E selezioniamo la mod, la mod in quest'ora è ovvero una mod uscita pochi giorni fa nel mod hub Ovvero uscita il 2 di luglio, è la Emergence Impact Avviamo, vediamo questa mod qui, intanto comunque vi ricordo di lasciare un commentino, un mi piace e un'iscrizione Se il video vi fa piacere e venite su Twitch Questa mod l'ho vista oggi su mod hub, ho visto proprio, anzi questa oggi è la mod hub E ho detto, allora è una mod che non serve a un cazzo, però per provarla, si sta, cioè per provare Perché no, ho detto, la proviamo, vediamo come funziona, vediamo se ha senso o non ha senso Secondo me non ha tanto senso, però vediamo Posso mettermi una tuta un po' più da pompiere Sì, mettiamo questa anche se non è che c'entra tantissimo, però È meglio che posso fare, il base del gioco non mi interessa, questo non mi interessa Allora, andiamo a comprare subito il mezzo Ovvero l'autopompa, bello, carino Questa, 1000€, sì, i prezzi secondo me sono da rivedere Ecco, poi compriamo questo coso qui, che non so cosa sia E questo che sono per i cartelli stradali Ehm, tobbiamo un attimo, vediamo dove abbiamo spawnato tutto Un momento è al negozio, eccolo qui Ok, questo è la nostra autopompa 104, adoro Ok, questo è l'interno È un semplice camion Allora, fari L'appeggiante funziona, no? Yes Ma che figata Bello Ok Le sirene Allora, F1 Control Ok Control 4 Allora Dispiega No, magari lo spieghiamo dopo Start scenario Bello un po' in italiano, un po' in inglese Ehm, guida verso il checkpoint Che si trova Ah, qua su in cima Allora, per sapere Queste due cosi Cioè, come faccio a trasportarli? No, non penso se posso, tipo, attraccarli Tipo, se vado qui Vado indietro, non penso No Vabbè C'è l'animale senza In ogni caso Non prendiamo tempo Vai Sirene Tutto Andiamo super di qua Super di qua Veloci, 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 veloci Non prendiamo tempo Verso il campo Verso questo incendio Non lo so In mezzo al campo Cosa può succedere? Non lo so Andiamo Andiamo Comunque la mod È solo per PC E si trova nel Mod Hub Quindi non è una mod Presa da un sito esterno Quindi si può scaricare anche da interno del gioco Vabbè Andiamo verso questo Incendio Ok Eccolo laggiù il nostro incendio Sono andato a fuoco delle balle Ok Ok Piano, piano, piano Ok Allora questo è il nostro incendio Allora usciamo nel mezzo Ehm Non posso aprire niente qua No, vero? No Ti spieghiamo? Allora il nostro Alziamo questo coso Che cos'è sto coso poi? Non lo so Posso fare altro? Questo qua lo gira Lo alza, lo abbassa Tencil Ah Vai Spegniamo Guys Pompiere Deve spegnere questo incendio Vediamo se appunto Si Se funziona Allora Il mio mod su Twitch Dice che ho fatto una cavolata Dice che si è buggata Allora Posso stoppare l'evento Posso strettare un altro Vediamo se Ha ragione C'è un altro incendio Via Ehm Aspetta Magari forse prima devo Ripiegare il camion Ok Di corsa, di corsa Allora super di qua Sì, sì È sicuro È stata sicurissima questa È super sicura Ok Piano, piano, piano Ragazzi Piano Tranquilla e sicura La conosco Ok Perfetto Non so come si è Tornato in piedi da solo Ehm Particolare Un guadio di corsa Oh c'è una bella Che va a fuoco Perfetto Vai Madonna questa qui è veramente infuocata È bello Ma come ho fatto a prendere fuoco così tanto questa balla Io non me lo spiego Io non me lo spiego In mezzo a nulla Come ho fatto a prendere fuoco Allora Ehm La bella è il progresso Va ma non va avanti No va avanti La bella è il progresso No va avanti Ok si muove Si muove Si muove Si muove Si muove Funziona 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 Si spegne È quasi spento È quasi spento Manca pochissimo Ok Top Vado 500 euro non ho pagato Incredibile Pure 500 euro Sì ma il bello è essere La balla sta lì Vuoi fare un test La balla è fisica O si può muovere Ok no È fisica Ok Startiamo il prossimo scenario Quindi Vai Uh Incidente stradale Andiamo di corsa Incidente stradale Via Sirene Dove sei Dalla forte mappa Ok Ok Vai Di corsa Di corsa Perfetto La cartellina stradale Ah comunque c'è In descrizione Tutti i link Se volete acquistare Tramite i miei Il mio codice creatore Grazie per la possibilità Che me l'ha ricordato Se la fate vi do Un bacino Grazie Si vende la macchina lì E prende il fuoco Che è successo Che è successo Eh scusi Cosa vuole Ma vuoi aver inferito lì Signore C'è al posto Signore Pronto Rimuoviamo la portiera Ok Tranquillo Adesso tolgo pure questa portiera Solo il tempo di capire Come funziona Questo utensile Ma che cacchio vuoi Tu che suoni Ti faccio suonare Tenga Cosa devo togliere adesso Togli pure questa Ok funziona Trovato Trovato Punticino Però Emo Ah Poi questa portiera Devo togliere Va bene Non so perché dovevi toglierla Ma va bene Lo togliamo Ok Bene Cosa devi fare qua Ah Ok Tagliare ovviamente il soffitto Perfetto Ho tagliato ovunque Chi è che suonava Te lo regalo Eeeh Signore Sono le noe Sono un cazzo di eroe Eeeh Beh Minchia Ma è la sua macchina Allora ragazzi Diciamo che La mod È un po' Bagatina Ha qualche problemino Come avete visto Tanti problemini Cosa vuoi Ecco Ma comunque Come mod Posso dire che Per variare un po' Il gameplay Se non fate più Cosa fare nei campi Ci sta Voto per questa mod Che ovviamente Non è una mappa Non è un attrezzo utile Per il gameplay Però è una cosa aggiuntiva Che ci sta comunque Come modalità O comunque cos'altro Secondo me Questo e mezzo È più che dignitoso Per questa mod In descrizione Comunque trovate il link Per scaricare questa mod È solo per computer Inoltre se volete Consigliarmi una mod O volete su Twitch Me la consigliate Oppure Me la consigliate Sotto nei commenti Da quello che mi dicono I miei spettatori su Twitch Mi dicono che c'è Anche un altro caso Di incendio Ve lo so scoprire a voi Nei commenti Dite uno quale è Io ovviamente lo proverò E nulla Da me è tutto Ciao Come ho fatto un muro A prendere fuoco Ok 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 Ok